L'Europa sulle banche, da Veneta posso dire che la Commissione europea ha fatto tanti danni perché ha vietato alle banche venete e non solo di usare il fondo interbancario mi riferisco alla commissaria Vestaglio Ma lei è favorevole o no a delle grosse banche europee che si possono prendere le piccole banche non solo italiane ma anche di altri stati? No, io sono favorevole, anzi dico che siamo presi troppo tardi a dividere le banche d'affari dalle banche effettivamente che fanno il loro dovere di prestito ai rispermatori C'è molto da fare, prima di tutto la Commissione deve permettere all'Italia di restituire i soldi ai truffati vicentini, veneti che sono centinaia di migliaia Quindi partiamo da cose pratiche, io sono stanca di sentire parlare in Europa di una riforma del sistema bancario, di un'unione monetaria, di un rafforzamento delle banche L'Europa delle banche a me non interessa, io voglio tutelare i risparmiatori e la gente da quelle banche che sono state oggetto purtroppo di loro problemi L'Europa ha difeso le banche tedesche e ha massacrato le banche italiane A me dei proprietari delle banche non frega niente, dei risparmiatori sì Quindi voglio assolutamente che si vada in questa direzione Si diano i soldi ai risparmiatori e soprattutto qualche volta la Commissione europea non va sempre ascoltata visto che come è stato detto la Commissione europea nel 2014 decise che non si potevano dare soldi alle banche salvo poi il Tribunale europeo dire che si potevano dare Intanto le banche sono fallite e con loro sono stati massacrati i nostri risparmiatori quindi a volte l'Europa sbaglia e bisogna avere il coraggio di dirlo Intanto mi pare di capire che qui non stessimo parlando di un intervento della Commissione europea Giusto? Ma... Questo è il capo della vigilanza bancaria europea Andrea Enria L'italiano Andrea Enria L'italiano Andrea Enria È chiaro che la priorità deve essere la tutela dei risparmiatori ma il completamento dell'unione bancaria andando appunto in un'ottica di rafforzamento di alcuni istituti che purtroppo sono deboli hanno delle carenze strutturali occorre farlo quindi il modello italiano della cultura bancaria va assolutamente preservato ma occorre completare l'unione bancaria in Europa quindi si valuterà caso per caso quelle che saranno o meno le fusioni però questo in realtà poi alla fin fine è a tutela dei risparmiatori poi sull'altro punto Però mi scusi se la interrompo il discorso è questo intanto per essere chiari quando ci sono delle grosse fusioni le piccole banche vanno inglobate in grossi gruppi bancari e sfuggono al contesto territoriale e anche al controllo politico che spesso ha fatto anche dei disastri È una questione molto delicata ma se non ce la fanno quegli istituti è meglio che vengano inglobati o che debbano essere continuati? E questo lo chiedo a lei Per me è meglio che vengano inglobati tra virgolette se non ce la fanno Questo non vuol dire